Benvenuti, benvenuti alla puntata di oggi di Stampa e Vangelo. Torniamo per la prima puntata del 2019 e grazie intanto per la puntata che abbiamo fatto, l'ultima del 2018 perché è andata addirittura oltre le 10.000 visualizzazioni e per noi insomma è un bellissimo risultato. Dunque sono molto grato a chi ci ha seguito nell'ultima puntata del 2018 e poi è stata fatta all'inizio come discorso di Capodanno del 2019. Questa è la prima puntata vera di Stampa e Vangelo trasmessa dalla PDF TV. Vi ringrazio, siete già connessi in molti. La prima a salutare è Silvia Indiati e saluto Silvia così come saluto Giovanni Marco Tuglio, il capo redattore della Croce. Gabriele Marconi dice che le penalizzazioni di Facebook ci tagliano le gambe e noi mettiamo i tram e allora cerchiamo di fare quello che dobbiamo fare per saltare le penalizzazioni di cui parla Gabriele. Non mandano le nostre notifiche, allora segnaliamoci da noi Luca Barra, Barbie Chevalier, Mirko De Carli, Susanne Demetz, Mauro Chialastri. Mancano le notifiche, dice Mauro Chialastri, esattamente. Abbiamo questa difficoltà, le notifiche non ci sono, dunque dobbiamo aiutarci da soli. Come ci aiutiamo? Facendo la connessione sui nostri profili, condividendo la diretta, facendo un like alla diretta stessa. Saluto Manuela Miraglia, Sabina Bosu, Antonio Russo, Cecilia Bini, Vincenzo Lelli e come si fa, dicevo, un like alla diretta per ammumentare la nostra presenza anche nell'algoritmo di Facebook, una condivisione sul vostro profilo della diretta che sta andando in onda in questo momento e soprattutto l'invio del link di questa diretta a tutti i vostri contatti su Facebook e su Whatsapp. Aggiriamo così la nostra solita limitazione che viene costruita da Facebook che non ci manda le notifiche quando andiamo in onda, ma va bene insomma. Ecco, la Pongi dice che le notifiche invece arrivano, altri sono lamentati perché non arrivano, va bene, insomma comunque sia, facciamo le condivisioni e così aggiriamo qualsiasi problema. Partiamo come sempre, stampa e Vangelo, leggendo il Vangelo di oggi. Il Vangelo di Marco, sapete che io ho una passione, una predilezione per il Vangelo di Marco, il Vangelo di Marco si legge in 80 minuti e quando volete avvicinare qualcuno al Vangelo, dite loro di leggere il Vangelo di Marco, breve, secco come una serie di fucilate e narrativamente meraviglioso. E guardate che pagina che ci capita oggi, tratta dal terzo capitolo, sono 9 versetti dal 22 al 30. In quel tempo gli scribi che erano discesi da Gerusalemme dicevano Costui è, posseduto da Belzebù, scaccia i demoni per mezzo del principe dei demoni, ma egli, chiamatili, diceva loro in parabole. Come può Satana scacciare Satana? Se un regno è diviso in se stesso, quel regno non può reggersi. Se una casa è divisa in se stessa, quella casa non può reggersi. Alla stessa maniera, se Satana si ribella contro se stesso ed è diviso, non può resistere, ma sta per finire. Nessuno può entrare nella casa di un uomo forte e rapire le sue cose se prima non avrà legato l'uomo forte. Allora ne saccheggerà la casa. In verità vi dico, tutti i peccati saranno perdonati ai figli degli uomini e anche tutte le bestemmie che diranno. Ma chi avrà bestemmiato contro lo Spirito Santo non avrà perdono in eterno, sarà reo di colpa eterna. Poiché, dicevano, è posseduto da uno spirito immondo. Questa è la parola del Signore di oggi che davvero ci dà forza. Forza, come ci dà forza Jacopo Pioli che ci scrive dall'Australia, dove è arrivato davvero fino in Australia per il matrimonio di sua sorella. Ciao alla bellissima Silvia Lucchetti, ciao a Rita Fiorentino, Mari Mar, Barbara Figus, Albino Marino. Siete tantissimi. Grazie di essere arrivati per prendere forza e ispirazione dalla parola di oggi. La parola di oggi è per far male, per derubare, per prendere tutte le sue cose a un uomo forte. E prima lo devi legare. Perché se non lo leghi questo si difenderà. Allora, noi siamo in questa fase, siamo circondati, no? Oggi ho messo nell'introduzione a questa diretta l'incredibile esperienza televisiva di ieri sera. Se andavi sul canale 5 c'era la dottoressa Jo, la terribile dal punto di vista anche interpretativo Barbara Durso, che faceva il peana delle adozioni gay, ovviamente rappresentando la famiglia etero della coppia sposata regolarmente come una coppia fatta di ipocriti litigiosi, mentre invece la coppia gay è sempre idealizzata. Sulla 7 c'era Giletti che faceva un'incredibile trasmissione luxuria. Quindi dopo la strombazzatura sul Rai 3, dopo la possibilità di vivere quell'incredibile esperienza pagata con i soldi del finanziamento che noi famiglie diamo alla Rai tramite il canone che ci prendevano in bolletta, quella esperienza davvero traumatizzante di vedere l'idealizzazione della transessualità davanti ai bambini di 9 anni. Dopo quello c'è stato anche il rafforzamento fatto, costruito, creato da Giletti, una trasmissione sconcertante in cui la parlamentare, ex parlamentare di Forza Italia Nunzia Di Girolamo, ci ha voluto far sapere che lei tutte le sere racconta una fiaba alle figlie in cui c'è una coppia gay nella fiaba. Pensate un po' che si deve inventare. In cui tutti, ma proprio tutti, i partecipanti erano a favore di luxuria, tranne la povera Daniela Santanchega, battagliato, devo dire, anche in maniera un po' secondo me sbagliata perché secondo me vanno dette delle cose con grande precisione, magari cogliendo dei passaggi del discorso dove si può far cadere in contraddizione evidente che è luxuria e tutti i suoi seguaci. Apro i giornali oggi e vedo che i cattolici, Bruno Tabacci e Angelo Sanza, due cattolici esplicitamente facenti riferimento al cattolicesimo politico, al congresso di Più Europa sotto la benedizione di Emma Bonino, sono riusciti a fare leggere capo di Più Europa, questo benedetto della vedova che è il capo di tutti i parlamentari a favore della droga libera, hanno organizzato proprio i pullman, i cattolici, insomma col vecchio metodo democristiano, hanno preso i pullman e hanno portato duemila tesserati radicali di storia che fanno duecento-trecento e hanno portato i duemila a fare leggere della vedova segretario, e ripeto, è il capo dell'intergruppo parlamentare per la droga libera. Dentro a tutte queste vicende, saluto intanto Fulvio Abate che è un intellettuale un po' anarchico, per fortuna non etichettabile, ma devo dirlo di sinistra insomma, lo saluto, mi fa piacere che segua la diretta, chi ovviamente dice torna con noi, torna a sinistra, insomma, ma il noi con Fulvio Abate non funziona perché in realtà anche lui è un individualista molto spinto e sa che quello che si dice qui molto spesso ha una radice di razionalità e per questo è seguito ciò che diciamo nelle dirette di Stampe e Vangelo. Quello che vogliamo dire oggi è questo e prendiamo davvero spunto da quello che abbiamo letto nella parola di oggi. Ci devono legare, per derubarci proprio del concetto banalissimo di normalità, ci devono legare. Io oggi vorrei fare un piccolo elogio della normalità con voi, davanti a tutta questa roba, in faccia a Barbara D'Urso, in faccia a Giletti, in faccia a Tabacci e a Sansa, in faccia a tutti quelli che hanno voglia di raccontarci che l'assurdo è razionale, io voglio provare a raccontare ciò che oggettivamente è razionale, ciò che razionalità è, che normalità è. Perché è normale, esiste la norma, esiste un enorme peso, per esempio, esiste un enorme peso. Paola Belletti, un'altra autrice di Aleteia, Aleteia è stata messa, è massacrata da Enrico Mentana per le cose scritte sull'aborto, sull'aborto dello Stato di New York e solidarietà ad Aleteia, lavorano ad Aleteia molti che si sono connessi in questo momento, Giovanni Marco Tuglio, Silvia Lucchetti, Paola Belletti, e sappiamo chi ha studiato la norma di New York, quanto grave sia quella norma, quindi un saluto a tutti gli amici di Aleteia, Mirko Testa in primis, e fanno un lavoro straordinario e vi danno dei bufalari, come dice Paola Belletti, invece i bufalari sono loro perché non leggono le norme, non sanno di che parlano, mentre noi sappiamo di cosa parliamo, e saluto in particolare Anna-Lisa Teggi, che è stata presa di mira da Open di Enrico Mentana. Allora, noi cerchiamo di costruire un orizzonte di razionalità, lo facciamo con una comunicazione che è questa, perché è lo strumento che ci resta, noi non abbiamo la 7 di Giletti, non abbiamo la Fiction di Canale 5, non abbiamo accesso a Rai 3, e ci dobbiamo sorbire le operazioni gay friendly pure sul Rai 1, nelle Fiction, nei film in piene feste natalizie, ormai la Lega che comanda la Rai, come se non la comandaste perché ci sono sempre le stesse cose, abbiamo dovuto subire l'ultimo tango a Parigi in prima serata, nell'orario in cui i bambini stanno dalla televisione sul Rai 2, e dobbiamo subire tutto. Ci restano questi piccoli spazi, e questi piccoli spazi proviamo a farli fruttare ragionando appunto sul tema se esista o no la normalità, per esempio. L'elogio della diversità, che per carità, io per primo, capisco nel senso del non discriminare, sono un obeso, peso tantissimo, so cosa significa discriminazione, no alla discriminazione, in questo senso sia all'elogio della diversità, ma esistono dei canoni, delle questioni che hanno a che fare con la costruzione di norme, si chiama normalità, perché ne derivano leggi. Se tu vuoi trasformare l'assurdo in normalità, e dunque anche legiferare sull'assurdo, lo introduci come normalità per poterlo normare, e questo crea degli sconquassi enormi. E' chiaro che se tu affermi davanti ai bambini di nove anni che transessuale è normale, questo elemento ha un impatto educativo molto pesante, ci sono dei meccanismi anche di curva statistica, per cui la propaganda gender così martellante costruisce, per esempio, statisticamente provato, un'impennata dei cosiddetti bambini transgender, perché i genitori davanti alla prima questione che si pone di un bambino che ti dice, insomma, gioco con le bambole se è maschio, cominciano a pensare alla disforia di genere invece di pensare che sia normale, che ci può essere una fase della propria vita in cui ci si sente anche per curiosità, per mille motivi, di andare a esplorare una dimensione, diciamo, di identità sessuale alta di quella che viviamo, ma che poi tendenzialmente dopo la fase adolescenziale queste questioni si riunificano nella adesione inevitabile al corpo, che è la nostra verità, verità tangibile, verità senza discussione, verità definita cromosomicamente, geneticamente. Se invece io a tre anni, davanti al bambino che gioca con le bambole, comincio a pensare, perché me l'ha fatto pensare a Luxuria in televisione, che è giusto quasi che io sia genitore attento alla questione della disforia di genere, ovviamente costruisco, quello che Vito di Lorenzo poi c'entra perfettamente, quanti soldi intorno a tutto questo. Costruisco un business, costruisco una dimensione di potere, costruisco una dimensione di comunicazione in cui una lobby poi organizzata sa essere presente dappertutto e diventare pervasiva. Noi continuiamo a provare a fare l'elogio della normalità. L'elogio della normalità significa, per esempio, che continua a essere, nonostante tutto ciò che viene fatto contro la famiglia, guardate la dottoressa Giotti ieri, la coppia etero sposata che vuole adottare è litigiosa e epocrita, invece la coppia gay e idilliaca, e dunque ha diritto all'adozione, secondo lo schema venduto a milioni di italiani, da Barbara D'Urso. Noi continuiamo a dire che invece è legittimo e concreto che i pochi, purtroppo, bambini adottabili che ci sono in Italia siano dati in adozione, secondo legge, secondo norma, dunque da qui la questione della normalità, ai genitori che non hanno figlio o che vogliono adottare, che siano regolarmente sposati, e rientrino in quella dimensione normale che è afferita anche a un elemento statistico secondo cui 29 milioni di italiani sono attualmente, nonostante tutto ciò che viene fatto contro il matrimonio, regolarmente sposati. Quei 29 milioni di italiani allevano 15 milioni di figli minorenni o maggiorenni non autosufficienti, si fanno carico di 4,4 milioni di disabili, molti dei quali sono anziani non autosufficienti. Vi ho descritto la normalità della vita di 50 milioni di italiani che stanno dentro quella che viene considerata in maniera così esecrabile la famiglia naturale. Poi esistono anche 6.600 coppie che si sono unite civilmente con la legge Cerinnà, ma 50 milioni di italiani che vivono nella cosiddetta famiglia naturale, così tanto esecrata, non si meritano quella forma di esecrabilità. Forse si meriterebbero un po' più di attenzione anche mediatica nel racconto rispetto al racconto che per esempio riesce a ottenere Vladimir Luxuria con la sua continua performance ma so' ovviamente a pagamento con cashè pagato dalle famiglie dai famosi 50 milioni che pagano il canone alla televisione. Alex Finori c'entra il punto e dice ormai se parli di normalità sei già omofobo. Sei già omofobo. Hai detto normalità, omofobia. E noi invece oggi vogliamo stilare un piccolo elogio della normalità. Vogliamo dire a Tabacci, a Sansa che fanno i pullman di finti tesserati a più Europa per far vincere il loro candidato che gli garantisce i loro posti evidentemente. Questo è il meccanismo che gli garantisce i posti da parlamentare, da europarlamentare. Vogliamo dire a Costoro che aver venduto il loro essere cattolice a Emma Bonino e a Benedetto della Vedova è anormale perché avrebbero dovuto ragionare sul fatto che Benedetto della Vedova è il capo dell'intergruppo parlamentare per la droga libera e un cattolico è normale che non sia a favore della droga libera né come purtroppo Benedetto della Vedova è a favore di aborti e di eutanasia. È normale dunque che Tabacci e Sansa si vergognino ora di aver fatto questa operazione politica per salvaguardare i propri interessi Tabacci è già parlamentare sicuramente vedremo Sansa nelle liste elettorali alle europee e queste operazioni svergognano il cattolicesimo politico il popolo famiglia evidentemente cerca di fare una battaglia per nobilitare invece quelle ragioni. Fatemi salutare anche Don Ottolino Baronio Ilenia dice quindi le minoranze vanno discriminate complimenti assolutamente no ho introdotto il discorso dicendo io appartengo alla minoranza degli obesi non proprio minoranza siamo 7 milioni ma comunque sicuramente rispetto a enormo peso siamo di meno se 7 milioni io capisco perfettamente ma voglio introdurre questa differenza c'è il no alla discriminazione in tutta evidenza ciò chi è diverso non può essere discriminato ma come si fa la campagna per gli obesi perché dimagriscano perché è un bene per loro così si può ragionare quando noi facciamo le battaglie affinché sia raffigurata anche come dire nei media siano raffigurate le ragioni della famiglia naturale Giovanni Marciano ha detto bene Sant'Anchè era inadeguata farle rappresentare a Daniela Sant'Anchè è stato l'ulteriore grave errore di Giletti che era chiaramente di parte Danilo Leonardi dice la minoranza da tutelare oggi sono i cattolici se noi ragionassimo di minoranza in minoranza ognuno si dovrebbe chiedere la protezione della propria evidentemente poi ognuno in qualche modo lo fa e allora c'è un terreno che dice no alla discriminazione e ovviamente è il nostro e nessuno più di me può capire sono figlio di una straniera anzi su wikipedia scrivono proprio di una immigrata pensate un po arrivata con la nave sì è vero arrivata con una nave voglio dare l'idea che sia arrivata con un viaggio a 21 anni poi è rimasta in Italia wikipedia è scritta anche quella da manine sapienti che vogliono raccontarti in una certa maniera sono un obeso quindi sono figlio di un'immigrata come dire wikipedia sono un obeso quindi appartengo a una serie di minoranze ma non mi penserei mai di organizzare al lobby come lobby per tutelare quel tipo di minoranza perché allora lì si entra dentro un altro tipo di meccanismo è quella che noi chiamiamo lobby lgbt oggi vai al cinema vai a vedere il film con Abba D'Antonio e Salemme e ti trovi la lezioncina pro lgbt tra qualche giorno a febbraio uscirà il sermoncino con Bentivoglio Alessandro Gasman che si sposano anche loro fra maschi Abba D'Antonio è già il secondo film già un altro film faceva il padre omofobo di una coppia in cui poverino maschio hanno messo pure Jenny Savastano Salvatore Esposito un film orrendo peraltro scritto proprio a tesi e Abba D'Antonio ormai si presta a questi sermoncini che evidentemente funzionano per lavorare perché questo è il tema in una canzone di Gabber anzi in un monologo che era qualcuno era comunista Gabber dice in certi ambiti la pittura la scultura l'arte la cinematografia la canzone era obbligatorio essere comunisti oggi è obbligatorio pagare la tassa alla lobby lgbt è giusto? c'è una dimensione di normalità che si può far prevalere rispetto all'esigenza lobbistica ha un senso Marco Selini ricorda anche la compagnia del cigno esattamente così lo sceneggiatore principe di Rai 1 ormai diventato Ivan Cotroneo che ovviamente inserisce data la sua esperienza di vita le istanze la lobby lgbt all'interno di ogni santa fiction di Rai 1 ricordo Rai 1 oggi il film in prima serata in prene vacanze natalizie ovviamente è gay friendly e la compagnia del cigno è un'altra operazione fatta nella stessa maniera Don Salvatore Vitiello lo saluto molto volentieri è straordinario perché in due diche dice veramente ci dà i compiti il nuovo compito dei cattolici è semplicemente recuperare la ragione e io faccio questa puntata la potrei chiudere qua dobbiamo semplicemente provare a recuperare la ragione e perché si recuperi la ragione dobbiamo provare a far recuperare i dati i numeri evidenziare l'esistenza di una normalità Danilo Nardici pensa al silenzio assoluto sulla strage di cristiani nelle Filippine neppure le rubriche religiose della Rai ne hanno parlato neppure le rubriche religiose capite come funziona luxuria a Rai 3 profonda può fare dibatti in interviste in cui mi insultano ha fatte dieci essere ieri protagonista su altre reddite televisive ed è tutto normale l'indiscussione intorno al transgenderismo cristiani massacrati uccisi da due bombe che esplodono una in successione all'altra una all'alleluia l'altra mentre intervengono le forze armate facendo strage di cristiani neanche una parola neanche una parola e allora noi ci proviamo a attaccare a questi mezzi vi ringrazio molto per la partecipazione alla puntata di oggi vi chiedo un like se la puntata non vi dispiace vi chiedo di condividere la puntata sul vostro profilo e vi chiedo anche di prendere il link e mandarlo a tutti gli amici che avete sulla vostra agenda messa sulla vostra agenda whatsapp fabio ciacco dice il normale è diventato anormale rossano giorello dice casalino alla comunicazione a palazzo chigi e questo è il risultato armita marchesi ricorda un versetto fondamentale del vangelo hanno perseguitato me perseguiteranno anche voi noi siamo figli di questa lettura quotidiana del vangelo questa trasmissione ne è figlia allora ricordatevi però la pagina di oggi l'uomo forte per essere derubato di tutto ciò che ha deve essere legato noi non siamo legati noi possiamo combattere noi possiamo dare combattimento rispetto alla avanzata dell'irrazionalità noi possiamo essere i testimoni di qualcosa di altro che parta dalla bellezza dell'essere famiglia invece della rappresentazione di Barbara d'Urso in cui essere coppia eterosessuale sposata equivale a male coppia omosessuale equivale a bene possiamo essere testimonianza di questo questa foto che vedete qui dietro per noi è una foto fondamentale il Papa che benedice noi come coppia la pancia di Silvia che sta per partorire Ioanna Benedetta che voi conoscete come gioia è per me quella immagine quella immagine che ogni tanto vedete che posto anche sui social beccandomi rimbrotti di chi dice non bisogna mettere le foto dei bambini serve a dire vedete la bellezza vedete la bellezza Giovanni Messina ci incoraggia dice la goccia che scava la roccia adesso è già un torrentello lo siamo vengo da questa esperienza straordinaria di sabato sera a Lecce dove l'arcivesco Seccia arcivesco metropolitano di Lecce ha incoraggiato esplicitamente il popolo della famiglia a fare questo questo lavoro di goccia che schiava la chiesa ecco la roccia ecco che c'è Vito Pietro Loporcar che è presente c'è Nerina Piazza che mi chiama Condottiero sono un soldato come voi ragazzi e l'unica cosa che vi chiedo è di fare testuggine e marciare fare testuggine e marciare perché poi alla fine la verità dei fatti è che davanti a quell'uomo che vedete vestito di bianco ieri a Panama c'erano 700.000 giovani e non c'è nessun leader di nessun partito politico setta religiosa o religione monoteista che possa radunare davanti a sé 700.000 giovani non ce n'è quindi ancora oggi noi siamo qualcosa noi cattolici voglio dire capaci di mobilitare di mobilitare fortemente allora come dice Andrea Brenna noi non ci fermeremo mai ci dovete legare ci dovete legare come dice la pagina di Vangelo di oggi rispetto all'uomo forte ci dovete legare perché noi facciamo esprimere forza anche con uno sguardo anche con queste puntate anche con i giovani della giornata mondiale della gioventù che come dice bene Anna del Guerra erano bellissimi Don Ottolino Barogno ci richiama la sentenza dello Stato di New York che non è una sentenza purtroppo è una norma è una legge è quello che ho provato a dire in tutta questa puntata attenti che vogliono trasformare le cose assurde in normali per poterle normare cioè farle diventare legge ieri venivamo abbiamo ricordato la legge orrenda le leggi razziali era la giornata della memoria e io ho scritto esplicitamente che c'è una cosa che mi va di ricordare nella giornata della memoria e che quel massacro orrendo fatto a 500 metri da qua per quanto ci riguarda Roma perché io vivo a 500 metri dal luogo in cui i fascisti andarono a prelevare migliaia di ebrei romani per condurli ad Auschwitz a Dachau ebbene quel massacro non è stato fatto da un pazzo quel massacro è stato fatto da una moltitudine che ha trasformato l'assurdo in norma ricordatelo è sempre lì il pericolo mortale e la giornata della memoria serve a ricordarci che possiamo essere tutti vittime ma possiamo essere anche tutti complici perché quel massacro non è stato fatto da un pazzo ma da una moltitudine che ha accettato che l'assurdo diventasse norma è lì il vulnus diceva bene Don Salvatore Vitiello che viene compiuto come delitto ai danni della ragione che trasforma tutto nel male assoluto della Shoah spero di essere stato chiaro quando oggi ho voluto dedicare questa puntata al piccolo elogio della normalità l'ho chiamato così è per dire attenti a ciò che stanno organizzando nel trasformare l'assurdità in norma io ti chiamo i don Ottolino Baroni è centrato New York è assurdità trasformata in norma l'idea che si possa abortire la ventiquattresima la tantesima la trentaduesima settimana è assurdità trasformata in norma che porta come inevitabile conseguenza che poi si possa uccidere Charlie Gard si possa uccidere Alfie Evans perché se puoi uccidere io lo dico al nono giorno ucciderai al nono mese e con le condizioni che proseguono dentro questo contesto di cultura mortifera ucciderai con un anno di vita o ucciderai quando sei depresso ucciderai quando sei affaticato quando sei malato col suicidio assistito con l'eutanasia con la quella che chiamo l'aborto post nascita e con tutto ciò lo faranno legalmente perché avranno normato l'assurdo ricordatevi è il punto cruciale o uno riesce a definire la dimensione della normalità e rispetto alla normalità emergono le norme ovviamente con la tutela e l'assenza di ogni discriminazione o se tu non fai questo lavoro e dici che tutto è normale prima o poi le lobby che si sanno organizzare meglio raccontano la propria come normalità ottengono norme quelle norme fondate sull'assurdo possono generare solo morte morte male assoluto allora io vi chiedo davvero spero insomma sarà una puntata complessa questa però partendo dal vangelo di oggi che ci dice solo l'uomo che viene legato può essere poi derubato di tutto solo da Gesù che dice chiaramente pena eterna per chi bestemmia lo spirito pena eterna non c'è il bene e il male mischiati no c'è il bene e il male e il male che genera pena eterna allora noi o abbiamo fede o crediamo che questo sia fede sia ragione della nostra fede se la parola che leggiamo ogni mattina è vivificante per noi allora se questo è non possiamo non essere conseguenti voglio dire c'è un segmento di cattolici e ce l'ha col Papa di un egg qui mi scrive Bergoglio non ha detto nulla sull'aborto a New York Bergoglio ha fatto di più Papa Francesco ha fatto di più Papa Francesco ha detto che abortire è come ingaggiare un sicario per risolvere un problema questo tipo di fattore è una frase che non avete sentito dire da nessun Papa da nessun Papa mai e abbiamo avuto di Papi che hanno parlato duramente contro l'aborto Papa Francesco ha detto è come assoldare un sicario nessuno ha parlato con questa durezza quando ho sentito quella frase io stesso ho avuto un sobbalzo per la forza di quella frase dunque per quanto mi riguarda io sono l'ultimo dei peccatori lo sapete che in chiesa vado all'ultimo banco e non posso neanche fare la comunione ma non mi faccio spiegare il cattolicesimo dai cattolici che ce l'hanno col Papa con la CEI i vescovi e mi spiegano che loro sono più cattolici di me perché vogliono che il Papa muoia il prima possibile mi dispiace non mi convincete io trovo che questo Papa abbia fatto una pastorale straordinaria contro l'ideologia gender contro l'omosessualità nella chiesa altra questione fondamentale e contro l'aborto e l'eutanasia con la pastorale della cultura dello scarto che ha caratterizzato fin dal primo giorno la pastorale di Papa Francesco lo dico esplicitamente so che mi becco qualche voto in meno come si dice perché magari questi che sono anti-bergogliani non voteranno più per il Popolo e la Famiglia ma per quanto mi riguarda io che oppure ho criticato quando è stato necessario criticare il Popolo e la Famiglia ha fatto una battaglia sull'Ussoli per essere chiari ma non mi sento di insultare Papa Francesco non mi sento soprattutto di indicare a nessuno quello che deve fare io posso dire quello che faccio io posso dire quello che faccio e quello che faccio è battermi quello che faccio è esprimermi quello che faccio è beccarmi dieci intervisti contro da Luxuria che mi dice peste e corna insulti sul piano personale ovviamente senza intervenire mai sullo specifico perché se interviene sullo specifico sa che io sono in grado di massacrare chiunque e ponendo il veto alla mia presenza in televisione perché se io fossi stato presente alla sette al posto della Santa Anche probabilmente quel dibattito sarebbe andato in maniera diversa Danilo Leonardo dice ma il Papa qualcuno lo ascolta veramente o ve lo fate spiegare dalla verità e dalla Repubblica leggete la croce fatemi la cortesia qualcuno che non è abbonato adesso vada su www.lacrocequotidiano.it slash abbonarsi trattino ora fa l'iscrizione al popolo e alla famiglia con l'occasione fa anche l'abbonamento alla croce e legge tutti i giorni qualcosa di sensato che parta dai fatti dai testi eh perché noi sul quotidiano tutti i giorni lavoriamo sui dati di fatto cercando di costruire una riflessione un ragionamento qualcosa che avrebbe e ha la capacità di essere incidente nella riflessione di ciascuno quindi se volete cibo per la mente ecco fate questo sforzo www.lacrocequotidiano.it slash abbonarsi trattino ora Angela Umbriano dice non ha ricevuto la notifica della diretta allora fatemi di nuovo questa cortesia un mi piace alla diretta una condivisione sul vostro profilo e prendete il link della diretta e mandato a tutti i vostri amici su facebook e su whatsapp e su messenger perché come vedete ci sono persone che non hanno ricevuto la notifica del fatto che Stampevangelo fosse in diretta per questa prima puntata del 2019 cercando insomma di raggiungere più persone possibili perché come avete capito ieri chi stava davanti alla dottoressa Joe erano milioni di persone chi stava davanti alla set erano centinaia di migliaia di persone noi ci dobbiamo difendere con il nostro strumento sperando che questa puntata sia vista da 10.000 persone che però siano 10.000 persone capaci di essere militanti su questo terreno che è un terreno evidentemente fondamentale di verità io ho chiesto a Gabriele Marconi di scrivere analiticamente un articolo per la croce sulla questione della legge dello stato di New York in maniera che quella questione dove veniamo accusati di essere spacciatori di fake news sia resa chiara e sia chiaro chi è lo spacciatore di fake news faremo questa analisi sulla croce che trovate domani spiegheremo perché è sbagliato continuare a usare Rai 1 Rai 2 Rai 3 ripeto Rai 1 con il film e la serie televisiva Gay Friendly Rai 2 con Ultimo Tango a Parigi in prima serata quando ci sono i bambini in televisione Rai 3 addirittura con Luxuria che parla a bambini canale 5 con la dottoressa Gio che spiega che la coppia sposata è ipochita e litigiosa la coppia lesbica invece idealizzata per l'adozione gay la 7 con Giletti che fa l'ennesima sviolinata sulla presenza di Luxuria a Rai 3 a noi resta questo strumento che è la PDF TV oggi per esempio adesso avete in onda Stampe e Vangelo alle 19.30 oggi Danilo Lonardi va in onda con dentro i fatti il nostro lavoro è questo Domenico Gallo dice intelligentemente credo che anche l'aborto sia passato con questo sottile condizionamento continuo io il meccanismo lo ripeto prendono sempre qualcosa che è evidentemente anormale è normale che i figli nascano non è normale che i figli vengano soppressi ma loro svolgono un lavoro per trasformare in normalità ciò che è assurdità e cosa significa fare normalità costruire normalità significa arrivare prima o poi a trasformare questo fenomeno in norma lo è stato fatto con la Roe vs Wade in America nel 73 e poi via via in tutto il mondo in Italia nel 78 con la legge 194 una cosa assurda ripeto i figli fanno fatti nascere gli ostetrici servono a farli nascere i ginecologi a farli nascere non a sopprimerli lo dice il giuramento di Pogade che è fondamento della civiltà medica occidentale si fa invece il contrario della normalità non li si fanno nascere li si uccide si fa campagna per dire che questa è normalità dalla campagna per la normalità si fa la norma è lì il punto di caduta ricordatevelo sempre il punto di caduta di quando vi vogliono dire che qualcosa che è anormale è normale è la norma è il punto di arrivo del processo su cui noi interveniamo e infatti abbiamo scelto come Popola Famiglia di essere presenti come movimento politico per impedire la genesi di norme contro la razionalità per usare l'espressione usata da Don Salvatore Vitiello spero che questa puntata sia stata utile per chiarificare questo processo a partire dagli eventi delle ultime ore dalle cose abnormi che abbiamo visto sui giornali in televisione fino ai cattolici che hanno eletto segretario di più Europa portando carrettate di iscritti Tabacci e Sansa sono i responsabili di questa vergognosa operazione eletto segretario di più Europa Benedetto della Vedua cioè il capo dell'intergruppo parlamentare per la droga libera siamo alla follia se non diciamo che è anormale che due cattolici per salvaguardare i propri interessi personali facciano operazioni del genere evidentemente la normalità l apostrofo anormalità diventa normalità e poi progressivamente norma ragazzi dobbiamo essere consapevoli dei fenomeni che sono in atto e consapevolmente opporci per quello che è il nostro potere evidentemente non abbiamo il potere di realizzare evidentemente norme perché non siamo ancora maggioranza in Parlamento ma per esempio abbiamo scritto una norma che si chiama reddito di maternità una progetto di legge l'abbiamo depositato in Cassazione stiamo raccogliendo le firme anche qui per considerare e far considerare normale ciò che normale deve essere cioè sostenere la famiglia naturale la donna madre in un momento in cui la prima tragedia in tutta evidenza è la denatalità dunque la risposta alla denatalità non è un convegno sulla denatalità non è un ideoriale sulla denatalità la risposta alla tragedia della denatalità è una norma sulla natalità a favore della natalità una norma che si discosti dalla valanga di piccole mance che i governi Renzi e Gentiloni avevano varato non generando elementi positivi in termini di natalità che anzi si è aggravata maggiormente e che questo governo a trazione leghista col ministro della famiglia leghista ha semplicemente copiato e in tutta evidenza in maniera a critica insufficiente dunque noi nella nostra critica non abbiamo fatto un convegno abbiamo fatto una serie tantissimi convegni ma soprattutto abbiamo prodotto una norma cioè una legge depositata in Cassazione da Nicola Di Matteo che è appena arrivato e che saluto dal nostro coordinatore nazionale adesso in tutta Italia noi con nostri tavoli stiamo cercando di trasformare questa proposta di legge in norma basandoci proprio su una riflessione che è derivata dalla normalità vedete come funziona spero che la puntata sia stata utile aver chiaro il quadro complessivo che ho voluto avviare ieri sera con una piccola riflessione sulla giornata della memoria ricordando sempre il duplice rischio davanti al male che avanza non pensiamo che sia un pazzo a farlo generare quella lezione ci racconta che si può essere vittime o complici ricordiamoci vittime o complici non c'è un matto che poi fa da capo espiatori e siamo tutti innocenti no chi si batte contro il male rifiuta di essere complice e dunque assume un ruolo benefico a beneficio del ripristino della razionalità del ritorno alla razionalità come insegna Don Salvatore Vidiello che oggi è intervenuto in questa diretta o per dirla in dimattese non chiacchiere ma fatti questo è il popolo della famiglia io vi ringrazio molto per la partecipazione alla diretta di oggi Stampevangelo torna domani più o meno alla stessa ora cercate di far sapere agli amici che è tornata Stampevangelo e di ribellarsi e di ribellarsi al sistema favorendo ciò che di fatto va contro è esattamente questo uno pensa che di essere anticonformista ma in realtà è al centro del conformismo ricordando Giorgio Gabber qualche giorno fa vi ho messo un paio di canzoni che vanno sentite una si intitola proprio il conformista e un'altra si intitola il potere dei più buoni ascoltatele e capite come funzionano i meccanismi del conformismo nel tempo contemporaneo spero davvero dunque che sia utile ciò che avete ascoltato in queste in questi minuti di puntata ringrazio Marco Oselini dice che è anche una moda a proposito a proposito di Gabber ascoltate anche la canzone durissima quando è moda è moda Gabber la cantava nel 1978 era sostanzialmente una valanga di insulti contro il movimento del 77 e i figli del 68 chiudeva il suo spettacolo che si intitolava non a caso polli d'allevamento polli d'allevamento lo chiudeva con questa canzone quando è moda è moda e gli tiravano i bulloni e le monete perché non se aspettavano una denuncia così forte del loro conformismo si è assunto questo rischio e lui dice racconta proprio io andavo a dormire fino alle 8 di mattina non riuscivo ad addormentarmi perché talmente era forte lo scontro violento che aveva con la platea che non si riusciva ad abituare ma gli succedeva regolarmente non ha rinunciato era al 78 e lui era un intellettuale che proveniva da sinistra noi che siamo cattolici che ci professiamo cattolici che ci professiamo credenti che leggiamo in Vangelo in cui c'è scritto perseguiteranno me hanno perseguitato me perseguiteranno anche voi e noi non abbiamo un minimo di coraggio per andare a dare battaglia allora prendiamo esempio magari da un laico ateo dichiarato come Giorgio Gabber e prendiamoci le nostre monetine i nostri bulloni addosso tra l'altro questo è un tempo in cui ci ritirano neanche i bulloni non ci ritirano neanche i monetini fanno qualche insulto su facebook facciamo le spalle larghe diventiamo uomini forti come dice il Vangelo ci devono legare ci devono legare i demoni per riuscire a prenderci tutto ma siamo uomini forti a difesa di ciò che ci è più chiaro e la cosa che ci è più cara è la ragione che tutto sia ragionevole altrimenti dentro il virus dell'irrazio vi ringrazio per la puntata mi scuso per questa breve interruzione in chiusura vi ricordo di fare un like alla diretta una condivisione sul vostro profilo e se potete vi mandare il link della diretta stessa a tutti gli amici su facebook su whatsapp e sulla vostra bacheca messenger vi ringrazio molto ci troviamo domani con Stampe Vangelo e seguite stasera alle 19.30 a Danilo Leonardi con Dentro i Fatti sempre sulla PDF TV da Maria di Novi una buona giornata a tutti